Bianco o rosso? Bianco. Carino. Niente occhi. Io penso questo. Sembra davvero stupido. Occhi normali vs occhi spaventosi. Penso che sia normale. Oh, questo è spettacolare. Vestito da giullare o vestito da camelliera? Giullare. Oh, bel vestito. Posso andare al circo con questi vestiti. Cappello da giullare o cappello da Mario? Giullare. Questo è folle. Stivali da clown o scarpe normali? Stivali da clown. C'è ancora sanca o non c'è ancora shit? Preferisco no. Ma nel film, ha lanca censuratrice sulla bocca. Così? Wow. Non posso giurare adesso. Pompon o campanelli? Pompon. Wow. Sembra bello. Capelli corti o capelli lunghi? Penso breve. Come pommi? Stai benissimo. Diventare pommi? Andiamo. Wow. Sembriamo malati. Questo è davvero pazzesco. Ora astratti o rimani vivo? Astratto. Sto riscontrando... Ti amo. Oh, maga... Qualcuno mi ha allungato. Mamma. Papà. Popcat mi ha trollato. Che cosa? Per favore non parlare. Devo imparare. Wow, wow. Sono intelligente. Secchione. Secchione. Perché hai trollato tua sorella? Cosa? Oh, my God! Mi ha fatto male. Non ero io. Non ti credo. Inizia a sollevare. Aiutami. Di notte. Le mie ossa. Aiuto, genitori. Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto. Se perdi, sei fuori dalla nostra famiglia. Ma non ero io. Sei stato tu. Inizia. Oh, mi ha rubato il mio. Non può. Devo imparare. Wow, l'ho fatto. Fammi imparare dove è il suo punto debole. Qui. Difficile. Cosa non piace ai King Kong? Vita. Facile. Vediamo come saltare più in alto. Bello. Sta arrivando. Godzilla. Ah, l'ultimo. Non può essere così. Enemy spot. Oh, my leg. Per favore no. Non ero io. Davvero. Ti odio. Non tornare più. La notte successiva. Sono troppo alta. Genitori. Sto chiamando la polizia. Sono così triste. Sei arrestato. Cosa? Non funziona. Dimmi cosa hai fatto. Non lo so. Come niente. Stai allungando la gente di notte. E' falso. No. Prigione. Sono troppo intelligente. Uscirò. Guarda. Ha perso la chiave. Facile. Facile. Veloce. Ahi. E' stato disgustoso. Sei troppo intelligente. Dove mi hai portato? Dobbiamo renderti stupido. No. Ti prego. No. Sono così stupida. Non so come camminare. Non può essere così. Devo imparare. Wow. Matematica. Ehi. Cosa? Abbiamo bisogno di te. Perché? Cosa hai fatto? Mi dimetto da questo lavoro. Oh. Ok. Ok. Prima di tutto. Hulk. Non ho fatto niente. OMG. Fratello. Vediamo cosa hai fatto. E' stato catturato mentre distruggeva edifici. Mostrami il filmato. Qui signore. Grazie fratello. Ridammi mio figlio. Mai. Dai ridammielo. No. Mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino. Wow. Era triste. Stavi cercando di salvare tua figlia. Grazie. Ha bevuto la pozione ed è diventato verde. Aspetta. Questo è davvero brutto. Vai qui. Ha vinto un gioco di tiro alla fune con i calamari grazie ai suoi muscoli. Va bene. Sei libero. Bello. Il prossimo è difficile. OMG. Gru e i Minions. Cosa? Liberi. Lasciateci liberi. Ha rubato la luna. Questo è male. Usciva con le ragazze Minion. E.M. Questo è strano. Bruto. Cosa? Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra. Aspetta. Questo è super cattivo fratello. E l'ultima cosa. Ha fatto uscire il virus dal baratono con il dottore. Aspetta. È vero? Sì. OMG. No. Ehi. Vai in prigione. No. Sì. Dammi la prossima. Il prossimo. BB. Cosa? OMG. Sembra un'immagine di chiata. Lasciami in pace. Smettila. Vediamo cosa hai fatto. Stava creando i bambini. È ingiusto. Smettila di farlo. Ha un coltello in tasca. Stava scavando sotto la prigione. Hai scavato sotto la prigione? No. Prendetela. Ehi. Torna indietro. Mai. Per favore. Mio bambino è triste. Oh. È triste. Vieni con noi. Troveremo una casa per il tuo bambino. Ma tu andrai in prigione. OMG. Questo lavoro è difficile. Amici dell'arcobaleno. Ho sentito parlare di te. Io sono buono. Ha iniziato a sparare al supermercato. Wow. È troppo. Il prossimo ato. Ha dato fuoco alla sua scuola. Wow. Hey. 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 Fratello. Smettila. Questo è male. Il prossimo. Ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati. Sei cattivo. Vai nella tua cella. Sei libero per questo. Grazie. Finalmente. Devo imparare di più. Wow. È molto. Ok. Sono pronto. Genitori. Statisticamente è impossibile che sia tornato. Non mi importa. Torna quando sarai più forte. Ok, ok. OMG. Devo allenarmi come un professionista. Wow. Sta funzionando. Ora il mio cervello dice di sollevare. Cominciamo. Wow. Il prossimo. Wow. Guardami. Difficile. Ma funzionante. Ce l'ho fatta. L'ultimo. A lavorare come sempre. Perché ti sta facendo questo? Genitori. Ora posso risolvere chi sta facendo questo. Wow. Sì. Di notte. Ok bello. Dormire. E mi nasconderò qui. Sei dolce. È ora di prenderlo. Torna indietro. Ah, ti ho preso. Dove è andato? Sto entrando. Non se ne parla. Il mio vecchio lavoro. Ciao, sono un uomo davanti alla finestra. Ha rotto le ossa ai bambini. Male, male, male. Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava. E' strano ma va bene. L'ultimo. Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino. Strano e illegale. Andrai in prigione. Il prossimo. Non c'è modo. Vieni qui Gargamella e i Puffi. Sì. Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi. Fecero una zuppa di Puffi. Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo chiede. Ok, sei una persona cattiva. Ma tu sei libero. Bello. Oh no. Jenna. Vieni qui. Smettila di baciare. Aiuto. Ok, vediamo. Aveva una cotta per PopCut. N mi sento strano a... Bene. Ha hackerato il computer di PopCut. Stava insultando in un gioco per bambini. Bello, bello. Vai in prigione. Puoi andare. No. Ah. Easy. È ora di risolvere l'ultima domanda. Ho lavorato su questo per così tanto tempo. E so come prenderlo. Ah. No, non l'ho fatto io. Siete arrestati. Ciao a tutti. Ti io ho preso. Quindi ora devo giudicarvi. Ma prima. Wait a minute. Non ho fatto nulla di male. Are you sure about that? Aggrediva i bambini all'asilo. Truffava la gente per soldi. Non è un bravo ragazzo. Non mi interessa. Stop. Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui. Dio mio. Sei una persona cattiva fratello. Prossimo. Prendevano i giocatori e li schiacciavano. È vero questo? No. No. Sì, lo era. No. È il tema. Cattivo. E invitavano le persone alla fabbrica. Bene. Cambiavano le persone in giocattoli. Oh, my God. Molto male. Andrai in prigione. No. No. Oh, no. Il giocatore è il prossimo. Sei stato in prigione? Sì, mi dispiace. Faceva il bullo a Ugi-Waki. Non bene. Mi dispiace. Questo è per te. Oh, grazie. Questo è stato bene. Apriva le porte con il suo grab pack. Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne. Non sei così cattivo. Sei libero. Ok, solo due rimasti. Ciao, sono un mangiatore di treni. Attaccava i nemici ai binari e li faceva investire. Dio, era brutto fratello. Non bene, non bene. Mi dispiace. Vediamo il prossimo. Demoliva gli edifici. Non lo so. Fermati. Sei cattivo. Mangiava i bambini dopo averli presi. Sei super cattivo. qui e l'ultimo perché hai fatto questo posso mostrarti puoi vedere la mia faccia si questo è il mio amico dio mio amo tua sorella aspetta che ha ucciso conmi stava derubando la mia banca ho bisogno di rapinare questa ma un'altra velocemente ehi muori muori sento la polizia e apriamola jax cosa sto rubando questo oro e andiamo via aspetta cosa ma perché perché mi hai messo in prigione che hai rubato i miei soldi ok ciao perdente ma che dire di kinger e si è innamorato chiamo king aspetta cosa stanno facendo palmi cosa stai facendo non sapevo che tu fossi qui è troppo king stai per morire o no ho ucciso quindi forse è stato calmo stavo trasformandolo in glitch è ora di farti glitch in cosa mi hai trasformato ora bastone aha perfetto ora tu wow questo è pazzesco ora lei e cosa mi hai fatto ah 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 ora per favore non farlo sul mio viso e ultimo pom andiamo il mio viso sono qui quindi l'hai uccisa tua non l'ho fatto lui l'amava ma lei ha scelto jox mangio tutti ho bisogno di aiutarli ok il prossimo il prossimo il prossimo non parteciperò a questo eccolo qui ah e dove mi ha portato popcat valuta i nostri jumpscare su questo forum per ottenere un milione di dollari ok facciamolo prima tu hai la mia testa ora la vasca da bagno ok gangl ha preso una c e il manichino prende b ora dors no la mia testa ti do la c ora caofmo la mia testa ti do b il prossimo è il grasso kyle cd il peggiore ora kyle si è bloccato andai a c ora jack si è bloccato lascia che ti porti in c il prossimo gangl normale e il mio era b ora ragata sono traumatizzato vai a b ora kinger non male c ora pommi le mie ossa lascia che ti porti in a ora zuboli vai in a ora caofmo bitch uno dei più spaventosi a ora tu out vai a c ora luna per me era b e ora sole vai a b ok tutti sono classificati e ho ricevuto i miei soldi a popcat fallo per me va bene ok iniziamo con le vostre facce questo sembra reale perchè la auricolare verona prossimo dio mio è pignolo prossimo vediamo lei sta piangendo perchè pommi piange sempre prossimo uovo cos'è questo ora tu sembra che sia cresciuto banco banco prossimo medusa che cosa ora tu ragata davvero susu ora vediamo voi faccia da stupido i pommi non hanno buone maniere da trolling quindi sus il tuo turno cos'è questo voi ragazza dell'anime è strano voi è davvero strano ragazzo virtuale oh mio dio e ultimo non sei tu al 100% perchè ho appena parlato con kaine eliminazione banco banco lo sapevo ora voglio sentire le tue voci reale al 100% prossimo ok legittimo il tuo turno buono ok il quarto questo è sospetto è il tuo turno signora impostore aspetta ho ucciso quello vero fratello prossimo non così voi che diavolo è questo voi prossimo oh mio dio voi prossimo l'ultimo morire qual è la prossima categoria? controlla il loro kit sets oh era così bello quindi penso che sia il momento per il prossimo fra smettila di semplificare voglio vedere le tue storie ricordo questa scena era un vero ricordo prossimo wow anche questa scena era nel film ecco come appariva fuori 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 il terzo è così che Kaufmo è diventato bitched e Pony lo vide è reale al 100% quarto ha giocato con Kinder questo è pazzesco è divertente quindi ti lascio quinto aspetta che sia morta è vero quindi ti lascio sei uno vediamo wow stavano festeggiando il compleanno Kaino ma Pony non sembra affatto felice settimo vediamo Kaino mangia questo ragazzo oh no 8-1 Pony stava cercando di scappare ma Kaino non voleva che lo facesse allora Jax non voleva che lui e lei scapassero e nemmeno lei ah 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 no no quello che è appena successo qui che li ha distrutti in questo modo ok è l'ultimo vediamo ha vomitato e poi Bubbles l'ha mangiato è vero questo è successo nello spettacolo non ti sto ancora eliminando ancora togliamoci i costumi Jenna non può essere reale Popcat ti amo o muori il secondo adesso spaventoso Larry morire anche tu il terzo cuscino dell'anime Bru morire quarto robot non può essere reale prossimo Kaufmo è molto sospetto prossimo fidanzata del re potrebbe essere reale ora tu non è assolutamente possibile è la ragazza anime prossimo donna pancetta guardala in faccia ora tu non sus aspetta che Kaino questo è davvero sospetto lo ucciderò e ultimo è ragata è anche falso morire ora mostrami il tuo ricordo più meschino freddo il tuo turno carino questo non è sospetto il quarto che cos'è dio mio mi indirà brividire voi dei pommi voi bene ne sono rimasti due vediamo non è pommi morire ora voglio vedere le tue stanze vediamo il primo dio mio questa può essere la vera stanza di pommi prossimo fratello smettila di fare questa tendenza sto uscendo il tuo turno cos'è questo stanza dell'ohaio adesso lei che cos'è era questo era falso gli ultimi due vediamo oh mio dio sembra familiare e ultimo impostore impostore per la prossima categoria lo lancerò per vedere il tuo modulo dopo la situazione prossimo cos'è questo dio mio il terzo disgustoso quarto beh si è distratta ora tu dio mio cos'è questo quinto questo è spaventoso ora tu mano perché ha una mano sulla testa fratello ora tu wow questo è kaufmo ma per ora ti lascerò l'ultimo zuboli in nessun modo siete entrambi falsi ora voglio vedere le vostre facce dopo la chirurgia plastica quindi togliamole la maschera dio mio disgustoso il secondo si è trasformata in pennywise questo è sus il terzo jacks oh no questo è falso quarto vediamo ok potrebbe essere vero quinto oh no cosa è successo qui sei uno oh no l'ultimo caino anche questo è falso morire e anche tu ne sono rimasti solo 4 quindi ora mostrami cosa c'è nella tua tomba il primo è ponmi buono il secondo oh no è il bagno schibidi questo è rabbi di dire morire il terzo ponmi bene e l'ultimo caino questo è falso morire ok ne sono rimasti solo 2 mostrami i tuoi ricordi ok e secondo questo è decisamente falso vuoi dire che hai ucciso mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale testiamolo ho creato dei bambini bellissimi a mutiamoli no 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 fatto non mi sento bene papà vieni qui papà ancora oddio ha funzionato il mio pennello è il migliore ehi riportaci alla normalità oh orario della lezione bambini disegnatemi facile buono evviva il mio turno buono lascia che te lo disegni che cos'è questo cattivo aspetta mi dispiace ho troppo potere non disegnerò mai più niente popcat cosa hai fatto? ho bisogno di disegnare fatto è la tua fine popcat oddio cosa è appena successo se ho dei superpoteri come posso fare soldi? che è questo? guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari prima io ah perdenti il mio turno posso provare? ah si ma perderai devo disegnare una macchina fatto wow sta volando aspetta come? facile questa è impossibile ho bisogno di una nuova macchina ah andiamo oh mio dio ce l'ho fatta l'ultimo ce l'ho fatta non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio sono ricco sono ricco ma ne ho bisogno di più chi salterà più lontano vincerà l'intera terra oddio è questa la mia macchina sono il primo bel salto il mio turno che bel salto tocca a me perdenti buon salto tempo per me noob arriverò alla mia lambo salto intermedio ora è tempo per il bagno aspetta è troppo lento lasciate che ne disegni una nuova fatto wow oddio quasi la fine congratulazioni hai vinto la terra andiamo la polizia lui sta imbrogliando catturatelo devo disegnare una macchina fatto wow devo disegnare disegnare di nuovo fatto ok è ora di distruggerli wow ha funzionato capo cosa devo fare saltami addosso grazie ora devo nascondermi perché ce ne sono altri oh no cosa dovrei disegnare dopo un me aiutami stanno distruggendo la mia fabbrica oddio disegnerò personaggi personalizzati non ti preoccupare fatto wow ora penserò a qualcosa di strano fratello che bello sta qui prossimo ah incredibile ultimi due oddio prossimo oddio prossimo fatto wow ok attacco grazie mille popcat nessun problema ma ora sei in arresto mi dispiace cosa si fermi si fermi lì incredibile sono in prigione disegnerò la fuga bello un me un me ciao sto valutando da ora ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova lo farò io bello tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi tutti i miei amici sono morti aiutami per favore disegniamo fatto evviva prossimo stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crocifisso per reagire mi sta maltrattando per favore disegna un crocifisso non c'è da preoccuparsi grazie grazie il prossimo è Zolfius si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco ok, fammi provare fatto grazie voleva essere più grande della terra oh, sarà difficile ma ce la farò ok, ce l'ho fatta bene ha rubato l'autobus con i bambini di randy friends è brutto quindi ciao ciao facile ok, il prossimo è stato picchiato dai bugli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente disegniamo fatto wow, questo è così figo ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito i bambini restano qui per un momento oh dei bambini una buona cena aspetta, non mi sento così bene perché ci hai mangiato ehi se vuoi ottenere robux per i prossimi 10 giorni metti a mi piace e iscriviti ora ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone come tazzo smettila di inseguire le persone fratello il prossimo aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo sai disegnare i personaggi? si, ho un'idea perfetto il prossimo fatto oh no, fa schifo ma lo amo aspetta a prendere il vestito grazie il prossimo fatto forse l'ultimo oh my god disgustoso che cosa hai detto? il prossimo voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam oggi valuterò tutti i vostri jump scares prima ahi, ora tu buono prossimo ora tu ah, cattivo non fa paura il prossimo è lo squalo spaventoso ora scream Eugen l'ultimo buono wow, è stato impressionante il prossimo morto voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam mostrerò la tua faccia nella vita reale no e me sei metà cattivo e metà buono vai libero aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle ehi, io farò una buona cena dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando farò saltare in aria le loro case ah buono ora tu sono troppo debole finalmente l'ultimo non funziona oh no è troppo forte sei sopravvissuto è bello voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro lo farò wow, grazie voleva una moglie e dei figli ok, ti disegnerò una moglie e dei figli oh my god siete dei bellissimi bambini ah bello lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger quindi li vuole indietro cibo piacevole torna indietro cuciniamoli ma sotto i miei occhi per me sei una persona perfetta ok il prossimo è così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico non credo che le tue scorreggie siano così cattive sei sicuro? sto per morire mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo oh cos'è questo? lo mangerò buono oh, aspetta devo andare in bagno buono è ora di lavarsi le mani che diavolo il prossimo è così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso è ora di fare pipì fatto ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore lascia che lo disegni fatto e per me fai solo schifo ma sei una brava persona prossimo aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei per favore, baciami sei così intelligente che dovremmo stare insieme ok prossimo volevano avere dei figli ultra intelligenti ok, fammi disegnare non fatto sei così intelligente stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla wow, wow, wow SMETTILA DI INSEGUIRMI, DEVO DISEGNARE! OK, QUALCUNO HA UCCISO BAMBALENA! E ANCHE QUALCUNO HA UCCISO NAB NAB! GUARDA FINO ALLA FINE PERCHE TROVEREMO L'ASSASSINO! CHI E' L'ASSASSINO? ASPETTA! METTILI GIU, PRIMA BAM BAM, VEDO I TUOI DENTI SU DI LAY! MI HA FATTO ARRABBIARE PERCHE ERA SEMPRE MIGLIORE! TOری OFLA YANGI LALALALALA LALALALA LALALALAL AL A HIGHER LALALALALA I DON'T KNOW OF relatively did you just wanna visit Europe? Ichland, Weig! GLISS SHATTERS I NUAY Aber Blaek cierge Hai il mio braccio Oh mio dio mi dispiace Mani in alto Mani in alto Sei arrestato Quindi l'hai uccisa Ho solo morso la sua mano Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione Impossibile che sia in prigione Ma aspetta O no abbiamo la stessa cella Ah finalmente posso vendicarmi Mio dio quindi l'hai uccisa Il caso è chiuso No aspetta Ho ucciso un poliziotto per salvarla Ah sei chiuso qui dentro No Mio dio mi hai salvato Bacio Mio dio quindi gli siete innamorati alla fine Si Ok passiamo al prossimo Fata un uro Stavo giocando con bambalena e nab nab Oh mio dio è stato così cattivo Ma poi si è vendicato su di me e bambalena Spero che nessuno mi spaventi di colpo Amico fammi uscire Ok quindi nab nab l'ha solo spaventata di colpo Ma aspetta cos'è questo Il naso di coach piccol No mi stavano prendendo in giro Dove sei? Ah cos'è questo? Il mio naso Lascia che lo tagli per te No No Oh mio dio cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro Ehi cane mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi Grazie Ora di vendicarsi Amo il mio nuovo naso Ehi È la tua fine Ora è il turno di bambalena Ok vedo bambalena Ehi dammi il tuo naso Ok Grazie Ehi bambalena Muori Quindi hai ucciso nab nab e bambalena Non lo prometto Impossibile Figlio di bamban L'hai ucciso tu? Non sono stato io Lo prometto Ho invitato bambalena al mio concerto Ma nab nab non piaceva l'idea Ehi bambalena ho fatto qualcosa per te Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato Ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? Vai Ah Tempo di riposarsi Mindy l'hai ucciso Caso chiuso No Impossibile Chi lo ha fatto? Aspetta C'è una siringa Strumento del dottore Penso che il rosso potrebbe ucciderlo Non ero io Cercavo di farli mutare Ora di farti mutare Mangia questo Ah No 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 Ah Ora tocca a te No No Ha funzionato Ah E ora è il momento di unirvi Muah Perfetto Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì Ma non è successo Mio dio Lumaca Selina è il tuo muco Li hai uccisi NANI No in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore Cosa stava facendo stava schivando meme lol Ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab Mi ha buttato in piscina Mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri Ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me Tempo di sedersi Ah Un'ora dopo Ho aggiunto delle spine su di me Si pentirà di essersi seduta su di me Tempo di sedersi Ah Ehi 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 Due ore dopo Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a Bambalena Bambalena ceniamo insieme Ok Prendi posto Sarà la cena migliore Sto rompendo con te Aspetta cosa? Cinque ore dopo Ultimo scherzo Aggiungerò della TNT Ah Ah Oh voglio dormire Ho avuto una brutta giornata No 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 Ah Aspetta Agrer È troppo Hai distrutto la mia vita Vieni qui Cosa è successo dopo? Ti ha eliminato? Si Mi ha ucciso in cento modi diversi Ti faceva male? Si Aspetta Qualcosa sta dando i numeri Amanda L'hai fatto tu? Ho visto Bambalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito Tempo di guidare la mia nuova auto Ferma 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 L'hai uccisa? No Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa Capisco Ah Amanda Anche lei è morta Aspetta vedo un coltello Coltello dello sceriffo Ehi tu l'hai fatto Stavo solo togliendo le loro maschere Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt Prima Bambalena Amico Altre maschere Amico Mio dio Altre maschere Ehi Torna qui Amico Cosa? Ok prima la fata Cosa? Justin Pensavo avessi paura della fata Ok la famiglia di Zolfius Wally Amanda Ora il puzzolente Joel Per favore no Sono brutto Ah Cacca Fiddles Sono bello Vediamo Ah Skipping Young Ok dopo Nibbles Adam Adam di Lenkybox Amico impossibile Ora per questo ragazzo del capitolo 4 Per favore non fatelo Ho dei figli e sono brutta dentro Lo farò a Flamingo Wow Pazzesco Prossimo Nab Nab Sono la persona più brutta del pianeta Non fatelo vedere Non dirlo Nessuno è brutto Mio dio Così carina Prossimo Jumbo Oh my god M Chi sei Ok prossimo Luma Casseline Please don't do it cause 1 a M Average Lo farò Jenna Ok abbiamo controllato molti di loro Ora questo ragazzo Dà un nuovo capitolo Vediamo il tuo volto Bello Prossimo Bamban Vediamo No per favore no Cosa Rick Ti amo John Viola Vediamo No per favore Smettetela subito Nonno di Squid Game Prossimo è Squalo Da Ah Isho Speed Prossimo Pigster Quattro Kylus Prossimo allenatore Pickles Mister Beast Wow E ora tutti aspettavamo Nabnab e Bambalena Mio dio Wow Ok quindi non li hai eliminati Qualcuno ha sparato allo sceriffo Ah Perché l'hai fatto Hai ucciso Nabnab e Bambalena Odiavo Nabnab perché mi entrava nell'occhio Per favore esci dal mio occhio E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini Bambini state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio Ok Tempo di rubare dei bambini I miei bambini Mio dio Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione Per favore no Spavento Aspetta sono morti Aspetta cosa? Sic no Aspetta vedo qualcuno Ehi fermati qui Ero innamorato di Bambalena Sposerai Bambalena? Sì Bambalena Lo sposerai Sì Aspetta No Lui l'ha rubata Ora baciami per sposarmi per sempre No Per favore no Per favore no Ma è No Perché lo hai eliminato? Te che chiedi? Ti stavo salvando Ma è Justin Stavamo scherzando con te No Mio fratello Quindi hai ucciso il falso Nabnab Sei un sospetto Ah Opia Te che? Era Zulfius Non io Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup Il mio cibo No No Li hai mangiati tutti? Ero sazio Cosa? Sentito uno sparo Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto Dimmi cosa hai fatto? Stavo cercando di uccidere Bambalena e Nabnab E ho fatto una competizione per gli spaventi Tempo di uccidere il giardino di Bamban Siete tutti a metà partita Facciamolo Chi ha vinto allora? Nessuno Quindi non sappiamo ancora chi ha fatto Aspetta Cosa stai facendo? Mio dio Pigster Quindi hai fatto tutto tu Pensavo che avessi fermato il caso Ero solo affamato Ok stai andando in prigione Impossibile che sia stato Pigster Ma ce l'abbiamo fatta Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale Testiamolo Ho creato dei bambini bellissimi A Mutiamoli Fatto Non mi sento bene papà Vieni qui papà Ancora Oddio Oddio Ha funzionato Il mio pennello è il migliore E me aspetta Ehi Riportaci alla normalità Orario della lezione Bambini Disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente PopCut cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine PopCut Oddio Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri Come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi Per un milione di dollari Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah sì ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta come? Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Ah Andiamo Oh mio dio Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo Ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio È questa la mia macchina? Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto Tocca a me Perdenti Buon salto Tempo per me Nug Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che mi disegni una nuova Fatto Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok È ora di distruggerli Wow Ha funzionato Capo Cosa devo fare? Saltami addosso Grazie Ora devo nascondermi Perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo Boom Pokat Aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che bello Sta qui Prossimo Ah incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok attacco Grazie mille Pokat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile Sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Umme Umme ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa E ha bisogno di qualcuno Che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti E ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire Mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie Grazie Tutto l'uno Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco Ok fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh, sarà difficile Ma ce la farò Ok, ce l'ho fatta Bene, ha rubato l'autobus con i bambini di Randy Friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok, il prossimo È stato picchiato dai bulli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow, questo è così figo Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito I bambini restano qui per un momento Dei bambini Una buona cena Aspetta, non mi sento così bene Perché ci hai mangiato? Ehi, se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con pazza Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo Nice Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea Perfetto Il prossimo Fatto Oh no, fa schifo Ma lo amo Aspetta a prendere il vestito Grazie Il prossimo Fatto Forse l'ultimo Oh my god Disgustoso Che cosa hai detto? Il prossimo Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam Oggi valuterò tutti i vostri jump scares Prima Hai, ora tu Buono Prossimo Ora tu Ah, capito Non fa paura Il prossimo è lo squalo Spaventoso Ora scream Eugen L'ultimo Buono Wow, è stato impressionante Il prossimo morto Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam Mostrerò la tua faccia nella vita reale No E me sei metà cattivo e metà buono Vai libero Prossimo Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle Ehi, io farò una buona cena Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando Farò saltare in aria le loro case Ah Buono Ora tu Sono troppo debole Finalmente L'ultimo Non funziona Oh no È troppo forte Sei sopravvissuto È bello Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro Lo farò Wow, grazie Voleva una moglie e dei figli Ok, ti disegnerò una moglie e dei figli Siete dei bellissimi bambini Ah, bello Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger Quindi li vuole indietro Cibo piacevole Torna indietro Cuciniamoli No, 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 no Non sotto i miei occhi Per me sei una persona perfetta Ok, prossimo È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico Non credo che le tue scorreggie siano così cattive Sei sicuro? Sto per morire Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo Oh, cos'è questo? Lo mangerò Buono Oh, aspetta Devo andare in bagno Buono È ora di lavarsi le mani Che diavolo Il prossimo È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso È ora di fare pipì Fatto No Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore Lascia che lo disegni Fatto E per me fai solo schifo ma sei una brava persona Prossimo Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei Per favore Baciami Sei così intelligente che dovremmo stare insieme Ok Prossimo Volevano avere dei figli ultra intelligenti Ok Fammi disegnare Fatto Sei così intelligente Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla Wow Wow No 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 Smettila di inseguirmi Devo disegnare Ok Fatto Ora Ogni garten di bambana è morto Jambo Bamban Opia Praticamente tutti Non preoccupatevi ragazzi Troverò l'assassino Che diavolo Metteteli giù Ora Prima Toilet perché la tua immagine è accanto a quella del garten di bambana Non puoi conoscere la verità Grazie cameraman Nessun problema Ora Dimmi cosa è successo Le abbiamo impacchettati dei bagni Per favore Lasciami in pace En Ti abbiamo preso Tu l'hai fatto No Non sono stato io Papà aiutami Papà Oddio Cosa Oh no Lui vuole prendermi Oddio Grazie ragazzi Ma ora Li hai uccisi tu? No Ho fatto guerra con loro Allora Li hai uccisi Il caso è chiuso Il caso è chiuso Oddio Non ero io Sei accanto a lui Ok mi avete preso Li ho fatti schiantare Impossibile Sei stato tu Ma loro sono sopravvissuti Sì ma poi ho iniziato a cambiare Sì ma poi ho iniziato a cambiare Oddio Li hai cambiati Sì In mutanti Andrai in prigione No aspetta Ma loro mi hanno distrutto Ok questa volta hanno vinto Sì Quindi sai che non li ho uccisi Ma aspetta Cosa è questo? È niente Lascia che veda Mettiamolo qui Oh no Perché avevi tutte le loro morti Registrate su VHS Non ero io Chi? L'hai ucciso tu? No Prometto Il mio gioco stava morendo Quindi volevo mostrare i loro volti Abbiamo tutto il cartel di Van Ben qui Vediamo i vostri volti E la vostra storia Jester Cosa? La mia storia è triste Oh no Oddio è così triste Eri un clown prima Prossimo canguro fatato Oh my god Impossibile Una ragazza Oddio Ok questa era bella Prossimo Oh no John Dream Hi Ok prossimo Oddio Alto Victor Elon Musk Cosa? This is Elon Musk Molto bella la storia Oh no Il prossimo è Hunter Team Vediamo Cosa? Nikado Avocado Wow E' una storia bellissima Ok Ora Nibbler Vediamo Flim Flam Sei una brava persona Flim Flam Rispetto Prossima Miss Luna Vediamo la tua storia Che diavolo Eri carina Vediamo il tuo volto dopo qualche anno Oddio Quindi prossimo Ora è il turno Del mio preferito Tamataki Oddio Non questo Pochi istanti dopo Uomo Così sei diventato reale Vediamo il tuo volto Ora E il secondo DJ Khaled Davvero Il prossimo è Stinger Vediamo Era triste Ora il volto Gigashad Ok E il prossimo Silent Steve Wow Ti hanno ucciso Ora il volto Non hai un volto Ok è tutto Siete tutti distrutti Allora li hai uccisi No Ho solo mostrato Il loro volto Cosa sta succedendo Verrete tutti interrogati Aspetta PopCut Il ragazzo che li ha eliminati Aveva questa voce Ascoltala Ok li ascolterò Non questo Non è questo Davvero Ancora non è questo Prossimo Nonno Cos'era Che diavolo Era Non tu Non sei tu Ok l'ultimo Si lo abbiamo preso Sei tu Poliziotto Li hai uccisi tu No L'ho colpito accidentalmente Jambo aiutami per favore Non puoi scappare ora Sparare È sopravvissuto dopo questo Si Sono sicuro Che diavolo Cosa sta facendo qui Metti mi piace E iscriviti Prima dello spavento Per avere fortuna Per dieci giorni Chi sei e li hai uccisi tu Sono la ragazza Dell'orologio alternativo E sono stata proprio Nella loro casa Ragazzi qualcuno È in casa nostra Ragazzi dobbiamo correre Il caso è chiuso Li hai uccisi tu È morta Ma chi è questo Johnprop sei stato tu No Io li stavo creando tutti Ragazzi Tutti voi sarete trasformati Nei miei mostri Wow Sono il prossimo Wow Sono il prossimo Turno di Nabnab Wow Ho un corpo Nabnab Cappello da festa Sono pronto Sono il prossimo Sono il prossimo Bello Bello Io sono il prossimo Siete tutti pronti Aspetta Chi è questo? È ora di trasformarvi tutti in bagni Prima tu No Ora il resto Il mio esercito è pronto Ah Se non li hai uccisi tu allora chi? Oh no Oh no Chi è questo? Oddio Oh scusa ho preso il tetto sbagliato Aspetta Hai ucciso il gaten di Bambam? No Ma ci provo sempre Li hai uccisi tu? Ho provato come hai potuto vedere ma mi hanno distrutto Allora se non sei stato tu allora Justin Cosa stai facendo qui? Eravamo normali youtuber ma ci hanno spaventato e messo nei bagni Ok non hai fatto nulla Perché l'hai ucciso? Stavo cercando le mie scarpe Ok ma sai chi potrebbe averli uccisi Sì certo Cameraman glitchato Oddio era toilet ma mostrami ora il cameraman indiciato Ti ha tagliato la testa? Sì Perché mi hai fatto uno spavento e li hai uccisi tu? No te lo prometto Ho solo messo una telecamera spia a casa loro Vai a spiarli Va bene papà Oddio quindi li hai sfruttati Sono morti Cosa sta succedendo? Mi ha tagliato il naso Stai zitto Oddio li hai uccisi Quindi hai ucciso il resto del garten di Bambam? Ho provato Ok penso che siano qui Nessuno ci troverà Sei sicuro? Cosa è questo? Che cos'è questo? Tagliamolo Facile O quindi hai cercato di ucciderli Questo è male Impossibile Il prossimo è morto Aspetta Vedo qualcuno Li hai uccisi tu? Non l'ho fatto Avevo il mio esercito di villager I villager hanno costruito la mia statua di toilette Perfetto Erobrine smetti I villager non sono i tuoi lavoratori Cosa hai detto? Attacco Finalmente ti abbiamo preso Mi dispiace Andrai in prigione Ok il caso è chi Penso che entrerò Devo scegliere Rosa Muso di maiale o muso di formichiere Maiale Quattro occhi o due Quattro Prossimo Zoccoli di maiale o zampe di pollo Zoccoli ovviamente A Dai Una testa o due teste Una Prossimo Denti da bambino o denti da nonno Nonna A Amo mia nonna Mamma mia Orecchie da gatto o orecchie da elefante Piatto Cosa? Sto bene Essere un cuoco Jump scare più spaventoso o carino Il più spaventoso Wow sono un maialone Wow sono il prossimo Essere nero o grigio Nero Dello Prossimo buco con denti sulla pancia o senza denti come squaloli Dai Avere ali o pinne Pinne Dai Squalo o delfino Squalo O Grande sorriso o grande tristezza Sorriso Forte o debole Forte Assassino di Stinger Flynn o amico di Stinger Flynn Ovviamente assassino Dello Mio dio sono il prossimo Ciano o rosso Ciano Aspetta Un sacco di braccia o no Tante Dai Sembrare spaghetti o pizza Spaghetti Sono fatto di noodles Dieci occhi o occhi sporgenti Occhi sporgenti Essere cavaliere o ninja Ninja Ok prossimo Denti affilati o no No Dai Jump scare o jump scare più spaventoso Quello più spaventoso Mio dio sono così spaventoso Sono il prossimo Tono di pelle viola o blu Viola Magro o grasso Magro Nessun occhio o tanti No Braccia lunghe o corte Lunghe Ma tu aiuti Occhi sui piedi o sulle mani Occhi sui miei piedi Debole o forte Debole No Sembro male Jump scare o no Jump scare Bello È fantastico Wow sono il prossimo Giallo o rosso Giallo al 100% Collo lungo o corto Lungo Ovviamente Dei La mia testa Occhi spaventosi o normali Spaventesi Wow Lingua lunga o corta Lunga ovviamente Wow 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 Bello Prossimo Puntini o strisce Cosa intendi Dei Puntini Mio dio Essere piccoli o giganti Giganti Jump scare più spaventoso o carino Il più spaventoso In cosa mi sono trasformato Wow è il nostro turno Siamo trigemini Scegliamo il colore Prossimo Prossimo Scelgo tre occhi felici Tre occhi arrabbiati Occhi tristi Ok non c'è opzione per i denti e non dovremmo prenderla Scegliamo Denti da bambino Denti normali Un sacco di denti Prossimo ragno Prossimo ragno Prossimi cappelli Prossimo Avere veleno o no Avere Wow sembri così fico Il mio turno Il mio turno Incredibile Oh mio dio dove sono Ah il primo è pronto Tempo per altri Ehi cosa ci hai fatto Ti distruggeremo ora Mai Da ora siete miei figli E io vi controllo Cosa Dove sono Usare tutti i vostri jump scares che equivale a uccisi Prima la giraffa Andava bene Ti sto prendendo Va bene Prossimo Zolfius Ah questo era spaventoso Ti sto prendendo Ok il prossimo è Apollo Ah era medio Ti sto prendendo Cacca Ciao ciao Opila Vai a spaventarmi Ho paura Paura media Ti sto prendendo Va bene Ora Stinger Facile Nu Fa male Spaventapasseri Fantastico fratello Ti sto prendendo Grande Ora lo sceriffo Vieni Ah Era triste Non spaventoso Cosa Ti sto prendendo Male Oh no Spaventapasseri Pigro fratello Per favore No Ah Lumacca Ti sto prendendo Fantastico fratello Va bene il prossimo Silenzio Steve Meglio stare attenti Cosa Era così spaventoso Ti sto dando Grande ancora Prossimo Fratello sembri un bambino Cosa hai detto Era ultra doloroso Fantastico fratello Prossimo Pronto No Ah Ti sto prendendo Grande Ok ora Tempo per pigster Svegliati Ok Scusa Jump scare Non fa paura Cosa Ti sto prendendo Male male Meglio correre ora Dai Devo venditarmi di lui Ora tu Se vuoi salvare la vita di Stinger Fallen Metti mi piace e iscriviti in due secondi Grazie Bene Ti sto prendendo grande Noodles vai Abbastanza bello L'ultimo Mamablena Per me è molto medio Cattivo Ok Quindi siete nel mio team ragazzi Chiamiamo la polizia Siamo qui Polizia polizia Prendeteli Ok Cosa sta succedendo Tutto il tuo team è arrestato Poliziotto cosa stai facendo qui Devi valutarli Oh bello Ha rubato i maialoni con la sua grande mano Era mio padre Mostro Non mi dispiace Prossimo 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 Quando l'ha fatto Ha mostrato il vero volto del maialone Wow dove sono Vi mostrerò il mio vero volto Um ok Mio dio Il tuo viso è bellissimo Si è innamorato di un altro Stinger film Va bene Aveva un sacco di fratelli e catturavano bambini in piscina Lasciami in pace per favore Mi nasconderò nella piscina Um Cos'è questo? Stinger Prendeteli No 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 Male 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 Stai morendo Aspetta Sento l'aggiornamento Wow Sono a blocchi Il prossimo Il dottore iniziò a catturare ogni giardino di bambam nelle gabbie No God Tornate indietro sprovveduti Ora siete chiusi in gabbie Era molto scortese da parte del dottore Erano chiusi in gabbie dal dottore perché voleva farli mutare Ok ora vi muterò Per favore no No per favore Non farlo Troppo tardi amici miei Troppo tardi Ragazzi siete mutati Mio dio Li ha chiusi tutti in gabbia ed era troppo piccola per loro Ok ragazzi Per me siete brave persone Venite qui Cos'è questo? Ok aggiornamento Bello Il prossimo Era una nuova entità nel giardino di bambam Mi chiedo chi sia questo? Vuoi vedere la mia forma finale? UMM sì Ma poi ha mangiato la persona che lo stava mangiando Credo che il mio ramen sia pronto Perfetto Qui Ecco a voi Grazie Smetti di mangiarmi Aspetta cosa Aspetta cosa Wow è male Erano i noodles delle persone e venivano avvelenati da esso Chi vuole noodles? Io 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 Non mi sento tanto bene UMM è meglio che mi nasconda Ma Stava facendo jumpscare alle persone come noodles Wow bei sushi Per favore esci Non riesco a toglierlo Per me dovresti scendere Scusa Sento il prossimo aggiornamento Wow Prossimo Aveva un'intera armata di frutti Questa è la mia intera famiglia Ha organizzato un quiz truccato in cui la gente moriva Benvenuti al gioco a quiz Prima indovinate chi è questo Un bam bam Sbagliato Sbagliato Prossimo 2 più 2 uguale 4 facile No 5 Cosa È tutto per oggi Ciao Quando qualcuno rispondeva male diventava arrabbiato e uccideva Voglio vincere di soldi Indovinate questi due personaggi per primi Opila nerd E Stinky Noah No Uccello opila E Stinky Noah Sbagliato Attaccala Fa male Ora attacco finale Per me sei davvero cattivo Tempo di aggiornamento Wow Prossimo Aveva un collo così lungo che gli aerei volavano verso di lei Ah 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 sei così piccolo Meglio guardare mia sorella Oddio Cos'è questo Wow è strano Stava spaventando la gente a chilometri a causa del suo collo Lasciami in pace Ah 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 eccomi al sicuro Um me aspetta Di nuovo È strano Si stava confrontando con fammi farlo per te Qualcuno può aiutarmi a far uscire i miei bambini Sì Grazie Ora il secondo Sono pronto Figlio siamo bloccati Era così cattivo e mischino Ciao Prossimo artista Ciò che disegna diventa reale Quindi disegna molte ragazze Lascia che disegni qualcosa Wow wow Baciami Si disegna un'auto volante e uno stile di vita da miliardario Voglio essere miliardario così tanto Wow Sono ricco Ha disegnato nuovi mostri spaventosi dal giardino di Bambami se ne è pentito Per me eri una cattiva persona Sento l'aggiornamento Wow chissà cosa c'è dopo È il momento per loro Ha fatto la sua canzone Era triste Ma qualcuno l'ha adottata Prima Dopo È stata portata via dalla famiglia dalla polizia Mio dio era una storia Vieni qui Opila Dai Grazie Ah Aggiornamento Wow Il prossimo Avevano una triste storia di fondo Per me è così triste Vieni qui Il prossimo è il poliziotto Barry Ha mostrato tutti i volti di Darten of Bambam Oggi vi mostrerò tutti i volti di questi criminali Prima Bambalina Oddio Impossibile Bel volto Prossimo Bamben Sembri sospetto Wow Hai questa piccola lingua Prossimo Sceriffo Oddio Amico Gemelli Il costume Il prossimo è Lumaca Pirata Prossimo Jumbo Sto iniziando a vedere Wow Il prossimo è Opila Ah 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 Cosa Prossimo Nab Nab Brutto E Stinger UMM non ha un volto Dai Era male Il poliziotto Barry ha mangiato troppi prigionieri e aveva bisogno di un'operazione Scapperò Ti mangerò No Cinque minuti dopo Ehi dottore ho bisogno di un'operazione Non mi sento bene Ok vieni Oddio La tua pancia è così male Prossimo morto Il poliziotto Barry ha rubato il balloschibidido e ha iniziato a ballarlo Ha chiuso tutti i meme in prigione Il cuoco del poliziotto Barry faceva pancache con personaggi famosi e poi diventavano reali Ok fratello mi hai fatto arrabbiare Ciao Ok ho finito Dal jumbo Josh più piccolo a quello più grande e al jumbo più grande del pianeta Devo salire su queste montagne russe Controlla la tua altezza Ok nessun problema Sei troppo piccolo vai al posto per bambini Sarai il mio nuovo amico Cosa È il mio turno Beh salì Ho un'idea Scaverò la buca e ci entrerò Sì Facile È stato facilissimo Pensavi di potercela fare Jump scare Ai Non posso arrendermi Aspetta posso saltare attraverso Andiamo Ce l'ho fatta e sono diventato più alto Il prossimo Il prossimo Wow E poi Ehi non lasciarmi Devo saltare Sì Sì E sì Wow È più alto È il fratello Cosa? Come ci sei arrivato? Mi sono intrufolato Ti spezzerò tutte le ossa Firmati Le mie ossa Papà mi ha toccato Non mi importa Lui è più alto e migliore Grazie Ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile Facile Wow Sei così alto Il mio turno Difficile Il prossimo tentativo Sì Wow Questo è difficile Ah Sono un professionista Figlio Sono fiero di te Cosa? Salto Yes Yes No 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 Perdente Vero Togliamolo di mezzo No 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 Il giorno dopo Sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia Fermati Ragazzi È il momento dell'attività all'aperto I bambini saltano attraverso quegli animali Perdente Perdente Tutti mi maltrattano sempre Devo smetterla Bello Yo Perdente Come è possibile Il potere della mente Sì E l'ultimo Ancora no E adesso Non può essere così Chiamo mio padre Maison dovrebbe vincere Ha barato Ok Controlliamo Ok La persona che salta sul livello più basso perde Oh my god Ok Sono il primo Ottimo salto Penso che Jumbo non mi batterà È il mio turno No Avrò il miglior salto di tutti voi No Abbastanza buono Grande salto Ok Il mio turno è stressato Ma posso vincere Wow Ce l'ho fatta E sono ancora più alto Wow Ce l'ho fatta E sono ancora più alto Ok Sei davvero bravo Congratulazioni Sì È vero Eri l'uomo più alto del mondo Grazie Umme Cosa Non può essere così Umme Un ciao Distruggi le sue ossa Distruggi le sue ossa Mi ha rotto tutte le ossa E sono in prigione E lui ora è il più alto Tu sei la persona più alta Grazie Devo uscire Torta Mangiamo Wow Era con la chiave Corri Corri Ora devo saltare Saltare Ok Questo è difficile Papà aiutaci Sono così alto Bello Ah è il vincitore Nel frattempo Questa è una gara per la persona più alta del mondo Sono il primo Bravo Buono Non abbastanza Mi fanno male le ossa È il mio massimo Ma sono ancora il migliore Aspetta Aspettate il mio tempo per salire No Non puoi andare più in alto Io posso A L bozzo Non può essere così Farò il furbo Cosa? Hai bevuto una pozione illegale E adesso? Opila Verda ha vinto No Aspetta Sto sognando Sta diventando più grande Sono lontano Vero? L'operazione è finita in sicurezza Jumbo è la persona più piccola del mondo Oh Hell no Non può essere così Sono scappato via Ora devo tornare alla mia altezza Veloce Salto Sì Wow Mano Wow è bello Opila Verda mi ha detto di colpire te e lo farò Il prossimo Fermati Mai Mai Questo è difficile Wow Ultrasalto Ora Ora cosa? Sono più alto Umme Facile Salto Bello Il prossimo salto Wow Aspetta Ho sentito più qualcuno Prenditelo Oh Salto L'ha fatto OMG Veloce Devo saltare Mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il giorno successivo Ma se non è così Wow Il prossimo Difficile Ma ce l'ho fatta E l'ultimo salto Oh OMG Salto Mi è riuscito Opila Mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni Chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona Ok noob Sono il primo Bene Ah Oh OMG Questo è il mio limite E' il mio turno E' il mio turno Oh no E' il mio massimo Devo distruggerlo in qualche modo Sono svenuto Aspetta Opila Un uccello Opila verde È il nostro dio Opila verde È il nostro dio Devo distruggerla Out Ma prima ho bisogno di aiuto Poliziotto Barry Puoi aiutarmi? Opila verde È troppo potente Sì Questi sono i criminali più alti del mondo Dagli un punteggio per farli aiutare te Ok Prima cosa Ha le gambe lunghe perché è un robot Mostrami OMG Qualcuno ha fatto cento copie di lei per distruggere il mondo Ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe Tutti i miei Megan sono pronti I am a robot Aspetta Chi è questo? Fermate subito le vostre azioni Fermati 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 Non è stato male Ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici La mia casa È un terremoto Ti do un voto negativo Scusa No Prossimo Saltiamolo Sì 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 È la persona più grande del mondo Questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo Pronto? Via Che cosa? Fatto È troppo grande Bene Ti ho sempre apprezzato bro Ha fatto una collaborazione con Mercoledì e tutti l'hanno amata Era divertente Ti do un buon voto È dalla Turchia e la Turchia ha problemi con i terremoti Quindi vuole che le persone aiutino donando Unisciti alla nostra squadra Skibi Prossimo Sei così grande Era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto Voglio essere più grande Sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi Penso che sia arrivato il momento Ohio Bert Ho bisogno di te nella mia squadra Vai al buono Stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario Nice Mi chiedo chi sia il mio avversario Ah ti distruggerò Wow hai perso contro King Kong Io ero sempre nella squadra di Godzilla Aveva dei bambini grandi come lei Ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina Bro what are you talking about? Cosa? Bene L'hai battuto Prossimo Era super grande ma Superman lo ha portato in aria e lo ha distrutto Questa è stata la scena migliore che abbia mai visto Bene Prossimo I suoi figli sembravano di Ohio Mostrami i tuoi figli Ok sono dell'Ohio Morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso Oh va benissimo Sheriff e Lumaca Voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle Sono grandi? Si Wow sono davvero grandi Era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione Sono così piccolo Che cos'è questo? Eri una buona persona Unisciti alla nostra squadra Ora Ziphyr Era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande Wow bella lumaca voglio adottarlo Nanna 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 Mi dispiace ma ti lascio bambino Ti ha abbandonato perché eri troppo grande È così triste Faceva jumpscare alle persone per liberare la sua rabbia Mostrami il tuo jumpscare Solo due persone rimaste Ma perché è così piccolo? Era più piccolo di un atomo Vediamo Wow è così piccolo Poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla Mostrami OMG Quando si trasformava in ultra piccolo Ok ho bisogno di te nel mio team L'ultimo Era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto Era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo Era il migliore nel risolvere problemi matemati Ok amico sei nel nostro team Vai al posto giusto Ok il mio team è pronto Dai tutti i tuoi poteri Sto diventando troppo grande Wow Facciamo l'ultima battaglia Ok inutile Salto Oh no Ah e adesso cosa? Oh no Jambo Josh è stato ucciso con un cecchino E non preoccuparti Troverò chi l'ha fatto Prima il cattivo dal film Ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato Oddio ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui Sì ma è sopravvissuto Oddio quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato Sì quindi ho usato carri armati e esercito Cosa è successo dopo? Ha distrutto i nostri carri armati Non mi distruggerai mai io e il mio padrone Classico Jambo Josh W Non sei stato tu Ma Jambo Josh è stato ucciso E vedo le piume di Shika e Freddy Stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano E vuoi comprare un po'? Un po' di cioccolato? Ne prenderò uno Grazie Poteva eliminarti Non tu lui Oddio Bambam li hai uccisi Sto mangiando personaggi di giochi popolari ma non ho mai mangiato Jumbo Ho così tanta fame Lasciami mangiare Carne molto cattiva O vedo qualcuno di buono Ancora cattiva carne Fratello Oh aspetta, era mio amore Adesso lumaca Ok nessuno di loro era buono Ma penso che questo ragazzo possa avere un sapore migliore Cosa stai facendo? Oh mi dispiace Ok, quindi ha quasi ucciso te fratello Jumbo era brutale Oh mi aspetta Chi sei tu? Ero nella casa di Jumbo ed era spaventato di me Perché questa cosa è nella mia casa? Aspetta ora è nella mia lavanderia Devo andarci Aspetta la vedo È realmente qui Oh no Ehi tu Nindy l'hai ucciso Il caso è chiuso No, è sopravvissuto Non puoi spaventarmi in casa mia Fratello, quindi chi l'ha fatto? Ho visto Tamataki accanto a lui Tu, l'hai ucciso No, mi ha eliminato Vieni qui O hai paura di me È troppo Mi hai sputato addosso Jumbo è davvero brutale HMM non ho ancora alcuna prova Ehi PopCut Controlla meglio Bambam Oddio Oh oh non puoi scappare ora Per favore non uccidermi Per favore no Grazie Paffi Bambam sei un sospetto ora Ok volevo spaventarli Bello Ti ucciderò Ti hanno colpito con l'auto fratello Non sono tuo fratello Oddio Fluffy mi hai salvato Grazie Aspetta ma chi è questo? Cosa stai facendo accanto a Jumbo Josh? Mi ha adottato quando ero giovane E mi odiava Nanana Umme Chi è questo? Che dolce uccello Ti adotterò Umme OMG impossibile Sai cosa? Sei troppo dolce per arrabbiarti con te Ehi Opila aspetta Fratello è un maledetto tsunami Ma lo pulirò Fatto Nu è troppo Esci dalla mia casa ora Dieci anni dopo Aspetta qualcuno sta suonando Sei tu uccello? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno È morto No Lo prometto Aspetta il mio schermo sta gliciando BB è qui Ciao Ho hackerato il capitolo 4 del giardino di Bambam Cosa? Wow il nuovo capitolo sarà finalmente lit Ma hai ucciso Opila e Jumbo No non l'ho fatto Perché dovrei? Amanda C'è solo un hacker in questo mondo Io Oddio hai ucciso PB Ma hai ucciso Jumbo No Mai Stavo solo prendendo in giro lui Ehi Jumbo lascia che ti disegni dei muscoli Ok Ha funzionato Ora cambiamo il tuo volto Cosa? Facciamone uno nuovo Ora aggiungiamo delle gambe divertenti Robin no no Per favore fermati Ok Ho finito? Ciao È stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto Oh no Oddio chi le sta sparando? No No firma L'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche Jumbo No stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di Bambam Prima questa cosa Prossimo uno pallone da basket Ok prossimo i figli di Opila Tu vai al capitolo 3 per me Perché sei dolce Prossimo canguri Fa male Di notte Ehi Tu Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere quindi ora è il momento della vendetta Ah L'hai inciso Il caso è chiuso No aspetta non l'ha fatto Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato Questo è così cattivo Spero tu sia sopravvissuto Sì Quindi sono qui Oddio no way Qualcuno ne ha fatto un pancake Ho sentito dire pancakes Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Jambo? Sì Aspetta cosa? Eravamo su uno ship Dai vai più veloce Ok ok Sono bloccato Penso che sia scivolato Oh mi dispiace Aspetta È morto Non mi sento bene No Ha sopravvissuto al 100% Oh my god Mr Beast Impossibile Sono un grande fan Grazie Ma hai ucciso Jambo L'ho appena spaventato con un poster Che bel poster Amo Mr Beast Ho un infarto Aiutami Ho bisogno di un nuovo cuore Oh mio dio cosa ho fatto Non preoccuparti ti darò il mio cuore Grazie ma Mr Beast cosa ti succede? Sto morendo Sei un eroe Grazie ma penso che lo sceriffo sia sospetto Ehi Ferma L'hai inciso? No Lo prometto Ehi torna qui Perché hai fatto questo? Tutti sceglievano i giocattoli del giardino di Bambane Nessuno sceglieva me Quindi ho preso vendetta Figlio Scegli solo quattro Ok facile Brutto fratello Li prendo io Ok prendiamoli Non può essere così No I miei giocattoli Il caso è chiuso Ho visto che Jambo era morto No era solo un giocattolo HMM Quindi chi potrebbe essere? Aspetta Elefanti Guarda Ho un bambino Non potevo eliminarlo Aspetta Hai dei bambini? Sì Oddio così dolce Nucchi mi ha storditi Lumaca No Non l'ho ucciso Stava solo schivando i miei attacchi Bene L'uomo diavolo rosso Non ha funzionato Quindi eccoci qui Sospetto Molto sospetto Aspetta Chi è questo? Ti assicuro Che non l'ho ucciso Stavamo solo lottando Per una ragazza Pesche Ti amo OMG è così bello Lei è la mia ragazza Ah vieni da me Il troppo Ti abbiamo preso Non combattere mai per le ragazze Non è Sigma Non l'ho ucciso Te lo prometto Li hai ucciso Jambo? Sì Mi dispiace Andrai in prigione Ok ce l'abbiamo E questo è tutto Ciao Ciao